Voglio vivere così Perché siamo davvero grati a questa associazione per organizzare sempre eventi molto interessanti dal punto di vista artistico e culturale, di creare concorsi in modo tale da promuovere la bellezza dell'arte, della poetica e di tantissimi altri aspetti di cui potremmo parlare. In particolare domani pomeriggio che cosa succederà? Dunque domani pomeriggio succederà che come nel più tradizionale degli appuntamenti, Caffeina, nata dall'esperienza del festival, poi fattasi fondazione culturale solo un anno fa, darà gli auguri di Natale a tutti gli amici, soci, simpatizzanti, tutti coloro a cui sta a cuore questa avventura, questo sogno, in un luogo del centro storico della città di Viterbo che per un giorno, per scelta nostra, insomma affinché dalle parole diventasse realtà, si apre un locale nuovo, un Caffeina Bistro, cioè un ristorante del centro storico per un giorno è a servizio del festival e diventa un luogo di incontro, di musica, di divertimento e di scambio. Ecco, che cos'è, che cosa fa l'associazione Caffeina Cultura oltre a tutte le cose che ho detto io in precedenza? Dunque, allora diciamo così che Caffeina, come ho appena detto, è nata dall'esperienza di un festival, diciamo che è uno dei pochi casi Che si svolge ogni anno da un po' di anni a Viterbo ovviamente Esatto, in estate, da fine giugno a prima settimana di luglio Esattamente, ne abbiamo parlato molto spesso qui a Radio Yes Bene, vi ringrazio molto anche perché si tratta di 11 giorni consecutivi e di incontri con gli autori, quindi letteratura, saggistica Ma anche teatro, musica e molto altro Cioè, questo lo dico perché il Caffeina nasce come contenitore letterario ma sempre di più diventa poi sostanzialmente un festival della cultura per scelta Vi do un numero su tutti, in 11 giorni, nell'estate scorsa si sono svolti oltre 450 eventi, quindi di questo si tratta Tanto perra, no? Sì, in tutto il centro storico della città Basta considerare che sono 19 le location che sono utilizzate per realizzare il festival Che per noi sono, essendo un festival estivo, soprattutto serale e notturno, a differenza dei festival letterari del nord che si svolgono in settembre Noi utilizziamo spazi all'aperto, quindi meravigliose piazze, chiostri, cortili del Medioevo della città di Viterbo diventano luoghi di incontro e di ascolto Molto bene, senti, in particolare so che questa è una notizia che abbiamo letto sui giornali da pochi giorni La Regione Lazio ha proposto Viterbo come capitale della cultura e forse ci stiamo avvicinando verso una realtà che riesca a dare fondi e a dare risorse alla cultura? Guarda, ti dico, io me lo auguro, la nostra esperienza in realtà racconta tutt'altro ma poi... Lo sappiamo, lo sappiamo Ecco, paradossalmente invece racconta che un intervento pubblico, soprattutto in una realtà come la nostra che realizza un festival di una complessità così grande è sostanziale se non vitale Io ti posso dire che noi all'80% ogni anno abbiamo costruito i nostri budget con fondi di privati, quest'anno con i soci fondatori della fondazione e con grandi sponsor e piccoli sponsor Ma i quali ci sei tu mi sembra, insieme a Filippo Rossi Sì, ecco, diciamo che nasce sostanzialmente da una nostra idea, abbiamo lavorato con una piccola associazione che per anni ha costruito questo festival, ecco come ti ho detto da un anno è nata una fondazione vera e propria che ad oggi conta 40 soci fondatori e oltre 600 tra piccoli soci che sono sostenitori e benemeriti soci annuali sostanzialmente Però ripeto, la regione, in questo le istituzioni, io sono convinto che tutte le realtà che si occupano di cultura sono in grosse difficoltà, hanno veramente il compito di interrogarsi se questo in cultura sia un costo o un investimento Noi siamo convinti che è un investimento, tant'è che per noi incarna perfettamente la frase cultura e petrolo d'Italia, cioè l'Europa, il mondo ci chiede come italiani di essere il giardino d'Europa e di accogliere persone e noi dovremo solo farlo Ecco, tra pochissimo parleremo anche del concorso cultura e petrolo d'Italia, ma a proposito di fondi, di questi argomenti, domani sarà possibile anche acquistare le azioni di caffeina Cioè che cosa vuol dire? Dunque vuol dire, diciamo che le azioni è un'interfaccia il più giocosa e per dare un altro stato di riconoscenza alle persone per dire investi in cultura Associatevi Esatto, l'azione è un modo per dire, insomma ecco, è un'azione azionaria che in realtà si sta acquistando a partire da 10 euro la partecipazione alla vita di una fondazione che significa viverci dentro, proporre, essere agevolati sugli eventi e soprattutto evitare che questo sogno poi muoia, perché poi di questo si tratta Esattamente, mentre volevo chiederti appunto come sta procedendo il concorso cultura e petrolo d'Italia che vede la partecipazione di chiunque voglia inviare la propria opera d'arte a partire da un articolo giornalistico fino a un racconto, un dipinto, un'immagine, una foto Esatto, guarda, sta andando molto molto bene, devo dire che ha avuto un riscontro, poi si dice sempre così, magari sembra banale, ma ti assicuro superiore a quello che noi ci potessimo aspettare Abbiamo, siamo stati ambiziosi, abbiamo messo anche dei premi in denaro, siamo convinti che la nostra ricchezza è in ciò che abbiamo Quindi l'arte come volano per un'economia che poi va premiata, che poi va seguita e va coltivata Stanno arrivando un sacco di elaborati, ricordo che c'è tempo fino al 30 gennaio Chi le giudicherà, ricordami, Andrea? Allora ci sarà, intanto saranno una preselezione di tutte le categorie, ricordo che è multidisciplinare per cui esistono varie forme Una preselezione sarà fatta dai soci fondatori, 40 soci fondatori della fondazione che sono avviende, sono anche una parte di associazioni di categoria della città Ricordo che ad esempio c'è anche l'Università della Tuce, quindi un mondo variegato Le opere selezionate poi saranno sottoposte alla giuria di proprio pubblica popolare Cioè Facebook in base a un criterio di assegnazione che mi piace Si potrà proprio instabilire chi vince Ecco, molto bene Mentre quali saranno le iniziative in progetto in questo periodo? Nel senso, sappiamo che ci sono diversi eventi in programma Come per esempio giovedì 19 dicembre il For Love Gospel Quartet ad esempio Che suonerà all'Hotel Salus Terme Esatto Per caffeina Per caffeina, qui devo dire per dovere perché è giusto che è in collaborazione con il Jets Up Festival Una realtà della città molto attiva che dallo scorso anno è diventata una parte essenziale del nostro festival Per caffeina appunto Poi ricordo che il 22 dicembre alle ore 18 a Viterbo al Teatro San Leonardo Faremo la presentazione e ospiteremo la grandissima Anna Marchesini Per presentare il suo ultimo libro Moscerine Moscerine esattamente Ci fa questo regalo un graditissimo ritorno L'anno scorso inaugurò Caffina Festival Quest'anno Dato che poi la città ci chiede di fare attività tutto l'anno Stiamo tentando di farlo Tutte queste iniziative che noi stiamo facendo domani, giovedì con il For Love Gospel Anna Marchesini ed altro sono totalmente finanziate e realizzate con il contributo della fondazione Non c'è nessun altro intervento pubblico se non dei soci che poi mettono il loro lavoro e il loro denaro Infatti anche in questo caso nella presentazione di Anna Marchesini vorrei ricordare che l'ingresso per i soci è gratuito Mentre per gli altri ci sarà un prezzo esiguo del biglietto che sarà pari a 3 euro più o meno Sì Insomma Direi che Quindi è essenzialmente gratuito Esattamente Esattamente E proprio era questo il mio messaggio Allora io ringrazio Andrea Baffo, il direttore esecutivo di Caffeina Cultura E spero di sentirti presto per tantissime altre iniziative di questa fondazione così interessante Grazie a voi Noi siamo qui, speriamo di esserci ancora Insomma abbiamo bisogno di tutti voi Ci saremo Ci saremo Ciao Andrea A presto Ciao Grazie a me Voglio vivere così